Ciao ragazzi, in questo video vi parlerò di come perfezionare il cocktail Bellini drink di cui abbiamo già parlato e di cui abbiamo già visto la versione classica ma in questo video lo andremo a rendere ancora più buono e sicuramente più apprezzato dalla vostra clientela perché dico perfezionare questo cocktail che all'apparenza potrebbe sembrare già perfetto? perché ragazzi tanti drink che noi oggi definiamo classici sono nati in un periodo storico in cui le conoscenze scientifiche, gli ingredienti a disposizione o la strumentazione a disposizione non erano assolutamente quelli che abbiamo oggi quindi utilizzando qualche ingrediente particolare e un po' di tecnologia andremo a rendere il Bellini veramente perfetto andandone a limare i piccoli difetti e a accentuarne i pregi questo motivo io chiamo questo drink il Bellini scientifico e voglio lanciare il filone dei cocktail scientifici per chi non lo sapesse io sono Giovanni Ceccarelli ho un blog sulla miscelazione dove parlo di tecniche, ingredienti e cocktail e sono formatore in Dream Factory una scuola per barman che ha sede a Bologna ed è anche una delle più riconosciute e apprezzate d'Italia in una vita precedente mi sono lavorato in ingegneria è da qui che è nata la passione di ingegnerizzare i cocktail, le tecniche e studiarle da un punto di vista scientifico come ho già detto nell'altro video il Bellini è stato inventato sul finire degli anni 40 da Giuseppe Cipriani all'Harris Bar di Venezia è diventato a tutti gli effetti un grande classico ed è un vanto della miscelazione italiana nel mondo può sembrare un drink all'apparenza molto semplice perché ha solo due ingredienti succo estratto di pesca bianca e prosecco o altro vino spumante secco però è un drink che nasconde abbastanza insidie perché due ingredienti sono più difficili da bilanciare e da esaltare rispetto a drink con magari più ingredienti dove anche tanti piccoli difetti di esecuzione possono essere mascherati in questo video però non mi voglio troppo soffermare sulla ricetta sulle proporzioni eccetera perché ne abbiamo già parlato voglio soffermarmi però sulla tecnica di preparazione e andarla un pochino a migliorare un classico Bellini fatto a regola d'arte è il perfetto equilibrio tra la dolcezza e l'aroma della pesca bianca e l'effervescenza e l'acidità di un vino come il prosecco le altre caratteristiche fondamentali del Bellini sono un colore leggermente rosato dovuto alla buccia della pesca bianca un'effervescenza presente ma non troppo invasiva e una schiuma persistente la schiuma è quello che rende veramente fantastico questo drink perché gli va a donare una texture e una consistenza molto molto morbida tuttavia questi tre aspetti sono assolutamente migliorabili il primo è il colore il colore deve rimanere stabile durante la serata noi magari andiamo a estrarre il succo di pesca bianca inizio servizio e quel colore tende un pochino a imbrunire la prima cosa che andremo a sistemare è questo problema il secondo problema è l'effervescenza non deve essere né troppa né troppo poca deve essere ben amalgamata nel drink opereremo e lavoreremo sul succo di pesca per fare in modo che l'effervescenza sia perfetta e uniforme il terzo problema è la schiuma infatti nel bellini molto spesso la schiuma tende a scomparire rapidamente con un piccolo accorgimento faremo in modo che la schiuma rimanga più compatta e persistente come prima cosa vi serve del succo di pesca bianca estratto in estrattore andate a lavare molto molto bene le pesche rimuovete il nocciolo interno ma non rimuovete la buccia sarà infatti la buccia che andrà a donare questo colore leggermente rosato che sarà la firma di questo drink primo segreto per rallentare l'imbrunimento prima di estrarle tenete le pesche in frigo qualche ora le pesche sono un frutto che non va tenuto in frigo perché tra i 2 e i 7 gradi si ha il massimo dei danni da raffreddamento su questo frutto quindi andrebbero stoccate fuori frigo ma se voi le tenete in frigo qualche ora prima di andare a estrarle non succede niente e una bassa temperatura del succo ne andrà a rallentare l'imbrunimento dopo aver estratto il succo quello che dovete andare a fare è filtrarlo con una super bag per andare a rimuovere le componenti più grossolane di fibra che possono essere venute giù dall'estrattore quindi prendendo una super bag da 200 o addirittura meglio da 100 micron andiamo a filtrare il succo dopo aver filtrato il succo lo andiamo a pesare a questo punto dobbiamo andare ad aggiungere lo 0.2% sul peso di acido ascorbico l'acido ascorbico è un additivo antiossidante che si trova in commercio in shop online specializzati per esempio per la cucina molecolare o anche fornitori per la ristorazione assicuratevi chiaramente che sia un prodotto a uso alimentare in questo caso siccome sono 280 grammi di succo ne andiamo ad aggiungere 0.6 grammi io utilizzo un bilancino di precisione questo misura il centesimo di grammo ma vi basta anche una bilancia che misura il decimo purché sia precisa e lo andiamo a versare all'interno l'acido ascorbico è l'ingrediente che ci serve per andare a rallentare l'imbrunimento quindi fare in modo che il nostro succo di pesca unitamente a una bassa temperatura di stoccaggio perché otterremo sempre in frigo rimanga di questo colore per tutto il servizio la quantità può essere anche aumentata ma attenzione a non far diventare poi troppo acido il succo abbiamo quindi risolto il primo problema il colore adesso dobbiamo iniziare a risolvere il secondo il secondo il terzo problema che sono l'effervescenza uniforme e la schiuma partiamo dalla schiuma perché dobbiamo lavorare sul succo come prima cosa per fare in modo che la schiuma del bellini rimanga più compatta e persistente dobbiamo andare ad aggiungere lo 0.2 per cento di gomma xantano la gomma xantano è un addensante però ha anche la capacità di rendere più stabile la nostra schiuma ne utilizzo sempre lo 0.2 per cento che è una quantità abbastanza bassa perché è un potentissimo addensante quindi metterne un pochino di più rischia di rendere il nostro succo troppo poco fluido oppure addirittura di gelificarlo completamente quindi stateci attenti anche in questo caso 0.6 grammi circa e lo andiamo a versare all'interno la gomma xantano è solubile a freddo quindi possiamo sciogliere anche col bar a spoon ma possiamo anche scioglierla col passaggio successivo perché quello che adesso dobbiamo andare a fare è lavorare e omogenizzare il succo per andare a renderlo più uniforme e di modo che poi l'effervescenza e il nostro prosecco si vadano ad amalgamare meglio e dare in bocca una sensazione completamente diversa per fare questa operazione bisogna munirsi di uno strumento in questo caso un omogenizzatore rotore statore io utilizzo un ICA Ultra Turrax T25 cui ho montato un rotore statore che mi permette di ottenere una dispersione con particelle tra i 5 e i 25 micron quindi veramente molto molto sottili posizioniamo il nostro succo con la caraffa sotto l'omogenizzatore lo andiamo ad abbassare e immergere la punta a questo punto accendiamo e aumentiamo gradualmente la velocità lo lasciamo agire qualche decina di secondi il succo è omogenizzato questo è uno strumento che se lo fate andare avanti per abbastanza tempo potrebbe leggermente scaldare quindi questo è un altro motivo per cui è fondamentale partire già da un succo abbastanza freddo quindi andando a estrarre le nostre pesche che abbiamo precedentemente raffreddato il succo è pronto lo travasiamo in uno squeezer e andiamo a preparare il bellini cambio di setup andiamo a preparare il bellini come sapete a me piace prepararlo all'interno del gallone se non lo sapete andate a vedere il video che ho già fatto su questo drink sulla sua versione classica lo andiamo a raffreddare bene e all'interno del gallone andiamo a versare 50 millilitri del nostro premix chiaramente ragazzi nel gallone potete preparare più di un bellini alla volta anzi il senso sarebbe proprio quello e 100-120 millilitri del nostro vino spumante a questo punto andate a ruotare per amalgamare gli ingredienti se volete potete aiutarvi con un bar spoon andiamo a servire in un bicchiere alto e stretto da 200-250 millilitri chiaramente il bicchiere deve essere precedentemente raffreddato eccoci qua il nostro bellini scientifico è pronto guardiamolo un attimo la schiuma è compatta e per il colore è quel leggero rosino di cui parlavamo all'inizio lo assaggiamo l'effervescenza è presente ma non invasiva il sapore di pesca si sente molto bene ed è perfettamente bilanciato con il nostro vino quindi direi che siamo riusciti a ingegnerizzarlo bene se vi piacciono questi video e ti è piaciuto questo video fammi sapere cosa ne pensi nei commenti magari fammi sapere se vuoi che vada ad ingegnerizzare qualche altro drink e ricordati segui il canale e attiva le notifiche cliccando sulla campanella così ogni volta che pubblicherò un nuovo video sarai avvisato alla prossima grazie 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 grazie